a tutti amici di marina romea tennis come vedete oggi mi sono messo in mezzo ai fiori per scusarmi perché sono in ritardo di un giorno con la pubblicazione del mio solito video ma sinceramente la produzione di un video tutorial sul dritto mi ha preso tanto tempo anche purtroppo dovuto agli impegni che ho in questi giorni sul campo quindi abbiamo come avete visto anche da altri video se mi seguite anche sugli altri canali abbiamo tanti stage settimanali weekend quindi mi scuso per il ritardo e oggi un video carrellata sulla mia attività di questi giorni vi voglio invitare se volete seguire la mia attività a entrare sul mio sito internet marinaromeatennis.it vedere il mio calendario eventi vi lascio alla visione del mio video crea tanta velocità alla racchetta e potenza solidità molto bene vai cercala la grazie a tutti Mi accontento di cose, di profondità, di palla, non c'è tanta preparazione E continuate a seguirmi, mettete il like se il video vi piace e iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Vi aspetto a presto, ciao Roberto